Ma è vero che i dispositivi smart ci spiano? Rispondiamo a questa semplice domanda che molti di noi ovviamente si chiedono perché ogni giorno ormai siamo circondati da questi dispositivi smartwatch, dispositivi tecnologici come frigoriferi digitali, forni a microonde, intelligenti, aspirapolveri robot, smartphone, chiaramente smart tv e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente questi dispositivi per funzionare come tutti pensabiamo hanno bisogno di un'ottima connessione, quindi di poter trasmettere e ricevere dati in tempo reale su tutto ciò che avviene, siano essi appunto dispositivi come aspirapolveri robot o aspirapolveri smart o il semplice frigo smart che appunto vi ricorda quando è finito il latte. Ognuno di questi dispositivi comunque acquisisce da parte nostra dei dati, dati che a sua volta ritrasmette in un certo senso alla casa madre, all'azienda, ma questi dati che fine fanno? In realtà questi dati appunto vengono molte volte utilizzati dall'azienda produttrice del dispositivo, del prodotto che noi andiamo a utilizzare, appunto non per spiarci, per farci diciamo gli affari nostri, come si suol dire ecco, ma realmente appunto per fini commerciali, perché è chiaro che come tutti ben sappiamo, anche come abbiamo parlato in precedenti video, veniamo a volte addirittura ascoltati da dispositivi come Alexa o Echo Dot di Google o dello smartphone stesso, tutte queste informazioni che vengono acquisite sono tutte informazioni che poi le aziende utilizzano per il marketing, per propinarci appunto tutta una serie di pubblicità, di informazioni che a noi attirano per acquistare un determinato prodotto piuttosto che un altro. Dunque diciamo è impossibile ormai difendersi da questa tipologia di acquisizione di dati, a meno che non si abbiano appunto alcuni accorgimenti o quantomeno di non utilizzare troppo spesso questi dispositivi o di utilizzarli appunto il minimo indispensabile. Anche perché realmente vi possiamo consigliare di disinstallare applicazioni, di non utilizzare questo e quest'altro, ma realmente ormai siamo circondati da un mondo smart che comunque vuole e ottiene ciò che vuole da parte nostra, perché non appena lo mettiamo a casa e lo configuriamo già riescono a capire un po' tutto quello che ci circonda e quello che noi riusciamo a trasmettere. Vi ringrazio per averci seguito, vi invito a iscrivervi ai nostri canali, a seguirci su YouTube, TikTok, su Facebook, Instagram, per rimanere sempre aggiornati sul mondo delle nuove tecnologie investigative e non sul mondo della sicurezza. Buon proseguimento, ciao a tutti!